Si apre un nuovo capitolo della sua vita professionale e personale, un capitolo importante immaginiamo. Sì, molto importante perché sono diventata presidente della sezione di Fano della Confcommercio e quindi sono molto molto contenta di questo incarico e infatti voglio ringraziare innanzitutto i commercianti e il presidente provinciale Varotti che mi ha dato fiducia. Sono molto contenta perché il mio impegno è sempre stato a tutto tondo, quindi mi sono sempre impegnata nella città. Di che cosa ha bisogno Fano? Visto che siamo proprio nel contesto di Fano, quali sono secondo lei le giuste vie da percorrere? Fano sicuramente ha bisogno di un'iniezione di fiducia in quanto ha bisogno di rilanciare sicuramente turismo, ha bisogno di rilanciare commercio e anche il settore del terziario, quindi diciamo un tutto tondo per rilanciare in generale tutte le imprese per quanto riguarda appunto tutto il turismo, commercio, quindi una bellissima iniezione di fiducia che questo è molto importante. Quali sono i prossimi impegni ai quali dovrà far fronte? Ma sicuramente adesso ci sarà un momento in cui cercherò di capire esattamente le dinamiche e come funziona, andrò a conoscere le persone delle varie associazioni, poi con tutto il gruppo di lavoro che è sicuramente la cosa più importante, cioè creare una collaborazione condivisa da tutti, quindi dal gruppo di lavoro a tutti gli enti locali e a tutte le associazioni per poi appunto insieme perseguire una strada per poter rilanciare appunto la città.